28.000 immagini, 8.000 video, 230 dispositivi informatici, numeri impressionanti, il contenuto poi da film dell'orrore, davvero e proprio incubo. C'erano anche neonati fra i minori abusati o vittime di violenza, filmati e fotografati per uno scambio poi sui social. Si sono davvero affacciati sulla bocca dell'inferno gli investigatori della polizia postale durante un'indagine che ha portato a tre arresti e all'iscrizione nel registro degli indagati di 119 persone. Gli indagati hanno un'età compresa fra i 18 e i 72 anni e appartengono a diversi contesti sociali. Circostanze che, sottolinea la polizia, fanno emergere l'assoluta trasversalità del fenomeno che comprende professionisti, studenti, disoccupati, pensionati, impiegati pubblici e privati, militari e persino un appartenente alle forze di polizia è una guardia giurata. L'indagine, coordinata dal procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri, dall'aggiunto Giancarlo Novelli e dal PM Saverio Sapie, condotta dalla polizia postale di Reggio Calabria, è partita un anno fa sulla base di una serie di segnalazioni. Gli accertamenti condotti hanno consentito di individuare i 119 username utilizzati dagli indagati per scambiarsi il materiale. Hanno portato alle perquisizioni di quest'operazione, perquisizioni che hanno interessato 60 province e 16 regioni, in particolare Lombardia, Piemonte e Veneto, regioni nelle quali risiedono la metà degli indagati.